Contrattato E va in corta e spezia Sanon Sanon ha portato il passaggio a India al primo minuto del secondo tempo Incassare il gol è come una sveglia In meno di 10 minuti i giocatori italiani escono dal torpore con un gol di ridere Ma a Valcarigi non basta Ha già deciso Fa entrare Anastasi Chi deve uscire dal campo è Chinaglia Lui non la prende bene Proprio adesso che cominciava a ingramare E senza pensarci troppo Reagisce così A quel punto ho mandato un po' tutti a quel paese L'Italia resta raggelata Grazie a tutti